Sono infondate le notizie circolate in questi ultimi giorni a mezzo stampa sullo smantellamento di alcuni servizi essenziali del distretto sanitario Praia-Scalea. A sostenerlo è il direttore del distretto Pierluigi Cosentino che chiarifica la situazione a cominciare proprio dalla paventata chiusura del servizio del centro di salute mentale ospitato presso il poliambulatorio di Scalea. È una notizia assolutamente falsa, tant'è vero che basta verificare sulla bozza di piano azientale dove è chiaramente inserito il CSM di Scalea che anzi penso che riusciremo a implementare con nuove attività per le persone che lo frequentano. C'è stata una lamentera delle persone perché pensavano che il centro di salute mentale sarebbe stato dismesso anche perché durante la scorsa stagione estiva il responsabile dottore Sica è stato utilizzato anche invece del primario della struttura ospedaliera di Cetraro. Stesso discorso secondo Cosentino vale per il servizio di neuropsichiatria infantile. Anche questa non è una notizia vera. Certo, quel servizio soffre di una carenza di personale, però proprio nella settimana scorsa si è avuta una riunione tra i direttori distretti dei tre distretti del Tirreno per omogenizzare le tre neuropsichiatrie. Grazie a questa omogenizzazione dovrebbe essere spostata un'unità di logopedia da uno dei due distretti più meridionali al nostro e lo stesso per un'unità di neuropsicomotricismo.